Quest'anno, soprattutto, e lo scorso anno, sicuramente ci sono stati molti più casi. Complici le tante e varie difficoltà legate all'emergenza pandemica, anche in provincia di Belluno, sono in aumento i disturbi alimentari, bulimia e anoressia in primis. Un vero e proprio vortice capace di stravolgere la quotidianità, non solo della persona che ne è colpita, ma dell'intero nucleo familiare. In occasione della giornata del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione contro queste patologie, arriva a dire quanto mai l'importanza della prevenzione, lanciando un invito a mantenere alta l'attenzione sul tema, sono proprio le stesse famiglie, rappresentate in provincia dall'associazione Margherita Fenice di Belluno, che da anni svolge attività di auto mutuo aiuto per chi soffre di queste fragilità e di loro familiari. Questa giornata è proprio per la prevenzione del disturbo alimentare. Leggevo oggi, tra le varie cose, che un disturbo alimentare non è il peso, non è il corpo e non è neanche il cibo, ma è proprio un vuoto che si crea nell'anima, che è una voragine, che diventa proprio una voragine e dettata soprattutto dalle fragilità, dalle grandi fragilità dei nostri ragazzi. In Italia i disturbi alimentari riguardano più di 3 milioni di persone, nella maggior parte dei casi donne. L'età media di chi ne soffre, fanno sapere dall'associazione, è di 14-15 anni, ma la fascia si sta drammaticamente abbassando. Ecco che in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell'US Dolomiti, l'associazione ha promosso nelle scuole il progetto corpo, con azioni e iniziative tese a sviluppare fra i ragazzi delle riflessioni sul concetto di bellezza e scardinando negli eventuali stereotipi, già 300 gli alunni coinvolti in provincia. Scardinare dei modelli di bellezza che circolano moltissimo, soprattutto sui social, e quindi far riflettere i ragazzi delle classi dove entriamo, su cosa si fondano questi ideali di bellezza e far capire che in gran parte è solo finzione. Grazie a tutti.